Lorenzo, vieni qua. Dove vai? Mi ha detto la mamma, mi ha raccomandato, che non devi giocare, perché già dalla partenza ti sto guardando io. Mi ha detto, digli di non fare ora quattro ore di giochi ai salesiani. Capito? Che fai, lo spegni il computer? Spegnalo tanto, non ti serve. Giusto? Dove vai? Lorenzo, ma che ora è? Che ora è? Ti prego Lorenzo, non spiegare, domani che devi fare? Niente. Non ci sono esami? No, il 28 sono l'orato, ho finito. Ah, e basta? Sì. Sì. Vabbè. Asca, è pronto, Lorenzo, vieni qua, torna. Cosa? Vieni qua. Che c'è? Non si dà un bacio al babbo? Giusto. Aspetta, non si dà un bacio al babbo? Mi prometti? Mi prometti che non giochi di tanto? Sì, te lo prometto su Dio. Ma che Dio è Dio? Potevi promettere che... Non torna tutto sudato, capito? No, non torna tutto sudato, non lo cura. Ma... Ti sei portato qualche soldino? No. Fatto male. Grazie. Grazie.